Il turmo presenta dà il nuovo mondo. I simposi con ospiti provenienti da tutto il mondo hanno diffuso un significativo e convincente messaggio per dire no a qualsiasi forma di sopruso. Adesso dal Giappone, Donne Merita Tarie di Borbone, in attesa di tornare in Sicilia, invita un approccio positivo verso la realtà. La nobile donna afferma che, in un mondo segnato dal dramma del Covid e dalla guerra in Ucraina, è importante lasciare andare la paura per cercare una pace profonda che proviene dal cuore. L'attuale tumulto, spiega ancora, lascia il posto al nuovo mondo che credo verrà. Il nostro attuale tumulto, con il Covid e tutti i problemi che possiamo vedere nel mondo adesso, si basano sulla paura. Quando lasciamo andare la paura, guardiamo più in profondità. Scopriamo che c'è una pace profonda e se proviamo a concentrarci sulla pace nel nostro cuore e più persone lo fanno, gradualmente il tumulto si calmerà. E allora sperimenteremo un mondo diverso, basato sull'amore, l'amicizia e la cooperazione con il mondo santo. Dobbiamo attraversare questo grande periodo di cambiamento. Potrebbero volerci diversi anni, anche di più. Quindi auguro a tutti voi, ogni bene.